Al Movimento 5 Stelle e al consigliere e amico Giannarelli io consiglio, prima di astenersi dalle votazioni sulle mozioni presentate dal gruppo del PD, di leggerle, come gli consiglio di leggere anche le sentenze del Tar, visto che la sentenza che ha citato non dà ragione ai comitati, dà ragione al sindaco di Campi Bisenzio, sindaco del Partito Democratico. La fauna de la noche rumbeando al mismo, compa Fauna de la noche rumbeando al mismo, la fauna de la noche rumbeando al mismo Via che dira, vuolta a vuolta, baja donato la vuolta, salta para rumbear